Oggi finalmente è arrivata la mia pizzeria, sono stupendo da due mesi che veniva, poi è fuori anche io, se vi faccio a New York, un viaggio a New York, la migliore agenzia ragazzi, il mio viaggio a New York, Stavo pronti? Stai provo a muovere questo un attimino, sono molto emozionato. sei pronto? a forma di cuore aspetta prima fai la fai la prova perfetto, ce la diamo nel sangue dietro nel sangue, siamo pronti, andiamo in campano aspetta aspetta campano forever, va più dentro, più dentro perfetto, ma tu sei fatto, bravissimo